Porte scorrevoli laterali, aria da monovolume di charme, dimensioni contenute in poco più di 4 metri e quasi 1400 litri di bagagliaio. Queste le credenziali della Ford B-Max, tutto fare della Max Family dell'Ovale Blu, oggi più che mai presentata a un prezzo davvero imperdibile. La proposta di Safe Drive è proprio lei. Sul finire di questo difficile 2013, Ford si rivolge alle famiglie italiane che necessitano di spazio e comfort per i loro viaggi. Attraverso la monovolume compatta B-Max, il marchio dell'Ovale Blu è in grado di offrire una risposta moderna e trasversale, con un occhio di riguardo nei confronti di consumi e portafogli. Per le immatricolazioni che avverranno entro il 31 dicembre, infatti, la B-Max, con motore 1000 EcoBoost da 100 CV, oppure in versione B-Fuel, con propulsore 1.4 benzina GPL da 86 CV, è offerta a 14.200 euro. Un prezzo davvero interessante per una vettura innovativa, con in più il plus del sistema Easy Door Access, con la porta scorrevole posteriore e l'assenza del montante centrale, a facilitare notevolmente l'accesso al divano posteriore, aspetto capace di renderla davvero unica nel suo genere. Lunga poco più di 4 metri e larga poco meno di 2, B-Max garantisce un buon comfort di viaggio e tanta versatilità. Il bagagliaio, con una capacità di carico di 304 litri, risulta forse un po' troppo ristretto per una monovolume. Tuttavia, reclinando i sedili, è possibile ottenere una capacità totale fino a 1386 litri. La guida si rivela piacevole e rilassata. In aiuto del conducente interviene infatti una ricca dotazione tecnologica, che include il sistema Sync, Emergency Assistance e l'Active Stop City. Insomma, nel caso le Renne presentassero le dimissioni, Babbo Natale è pronto a trovare, nella B-Max, una valida alleata.